Grazie a tutti. E' un po' di riusci di testa, di Philip Dick. Philip Dick peraltro è l'autore del racconto da cui è stato tratto il famoso film Blade Runner, è quel genere lì. Il secondo ve lo presento dopo. Sono dei racconti brevi, quindi se voi siete pronti, iniziamo. Siete d'accordo? Siamo abituati di solito io con i miei colleghi a essere un po' interattivi, soffriamo dietro i leggii. Ma va bene. Philip Dick, il giorno che il signor computer uscì di testa. È stato scritto nel 1977. Si svegliò e intuì immediatamente che c'era qualcosa di orribilmente sbagliato. Oh mio Dio! Pensò quando si rese conto che il signor Letto lo aveva depositato come un fagotto di stracci al ridosso della parete. Oh si ricomincia, pensò. E' dire che il direttorato Ovest ci aveva promesso un'infinita perfezione. Ecco cosa otteniamo per il fatto di credere a quel che dicono semplici esseri umani. Si districò al suo meglio dalle lenzuola, si rialzò un po' traballante e attraversò la stanza in direzione del signor Armadio. Vorrei un elegante completo grigio, doppio petto, di stoffa, non troppo morbida, una camicia blu, calzini rossi... Era inutile. La fessura del signor Armadio vibrava già. Stava uscendo un imponente abito femminile. Un abito coi calzoni? Avrai quello che vedi. Gli disse la voce metallica del signor Armadio, rimbombando sorda. Cupo, già criticabile, il protagonista, indossò l'abito femminile. E vabbè, se non altro era meglio di niente. E meglio di quella volta, nel mostruoso agosto, quando il grande computer poliencefalico del Queens aveva offerto a tutti gli abitanti della grande America, come unico capo d'abbigliamento, un fazzoletto. Allora Gio, criticabile, andò in bagno a lavarsi e scoprì che il liquido che si stava spruzzando in faccia era una bibita tiepida alle radici. Cristo pensò, ma questa volta il signor computer è ancora più balordo del solito. Avrà letto vecchi racconti di fantascienza di Philip Dick. Dick decise. Ecco cosa ci guadagniamo ad avere fornito al signor computer tutta la vecchia spazzatura di questo mondo da leggere e immagazzinare nei suoi banchi di memoria. Gio, criticabile, finì di pettinarsi i capelli senza usare la bibita alle radici e dopo essersi asciugato passò in cucina a vedere se almeno il signor caffettiera fosse un frammento sano di una realtà che si stava deteriorando tutto attorno a lui. Ma niente da fare. Il signor caffettiera, docile, gli servì un bicchiere di carta pieno di sapone. Beh, non era poi un guaio così grave. Il vero problema si presentò quando cercò di aprire il signor porta. Il signor porta non si aprì e preferì lamentarsi con voce pigolante «Il sentiero della gloria conduce solo alla tomba!» Il che significa? Chiese Gio che adesso era arrabbiato. Quella situazione assurda non era più divertente. Non che lo fosse mai stata le altre volte, tranne forse il giorno che il signor computer gli aveva servito fagiano arrosto a colazione. «Il che significa?» «Che stai sprecando il tuo tempo, stronzo!» «Oggi in ufficio non ci vai!» «Nonno!» La previsione si dimostrò vera. La porta non si aprì. Nonostante gli sforzi di Gio, il meccanismo controllato a chilometri di distanza dalla matrice master poliencefalica rifiutò di muoversi. Colazione, allora. Gio criticabile batté i tasti del modulo di comando del signor Cibo e si trovò davanti a un piatto di fertilizzante. Al che agguantò il telefono, assalì con furia selvaggia i numeri che lo avrebbero messo in contatto con la polizia locale. «Cartoni animati SPA», disse il volto sul videoschermo, «una versione a cartoni animati delle sue pratiche sessuali prodotta in una sola settimana, compresi strabilianti effetti sonori». «Ma vai a farti fottere», disse fra sé Gio criticabile e riappese. «Era stata una pessima idea, sin dall'inizio, nel 1982, quella di affidare ogni meccanismo a un controllo centrale». Ovviamente, il concetto di base pareva solido. Bruciato lo stato d'ozono, troppa gente si comportava in maniera irrazionale ed era diventato necessario risolvere il problema ricorrendo a mezzi elettronici immuni alle radiazioni ultraviolette che innaffiavano il pianeta e ottenebravano la mente. All'epoca, il signor computer era parso la risposta giusta. Ma, triste a dirsi, il signor computer aveva assorbito troppi input svitati dai suoi costruttori umani e quindi, come loro, anche il signor computer aveva i suoi episodi psicotici. Naturalmente esisteva una risposta. E la risposta era stata messa assieme, in fretta e in furia, per così dire appiccicata con lo sputo, una volta scoperta la difficoltà. Il direttore del Servizio Mondiale di Salute Mentale. Una formidabile virago che si chiamava Joan Simpson. A lei era stata assicurata una forma di immortalità, in modo da poter essere a disposizione per curare il signor computer nei suoi periodi di follia. La signora Simpson era immagazzinata al centro della Terra, in una sala speciale foderata di piombo, al sicuro dalle pericolose radiazioni della superficie. Era immersa in uno stato di quasi animazione sospesa, che veniva chiamato pacco squallore. La signora Simpson si raccontava, dormicchiava, intrattenuta da un'eterna processione di rarissime soppopera radiofoniche degli anni 40. Che le venivano trasmesso a ciclo continuo, eh? La signora Simpson, si diceva, era l'unica persona mentalmente sana, sulla, o meglio, nella Terra. Il che, oltre alle sue superbe capacità, alla sua infinita pratica dell'arte di guarire i costrutti psicotici, era l'unica speranza di sopravvivere del pianeta. Pensando a quello, Gio Criticabile si sentì un po' meglio. Ma non troppo. Aveva appena raccolto dal pavimento, sotto la fessura della porta, il signor giornale. E il titolo al centro della prima pagina diceva, Adolf Hitler, eletto papa. Giubilo di folle smisurate. All'anima del signor giornale, riflette Cupo Gio. Lo scaraventò dentro il signor bidone della spazzatura, ma il meccanismo, anziché digerire il giornale o ridurlo a cubetto, lo risputò fuori. Gio allora diede un'altra occhiata al titolo e vide la fotografia di uno scheletro con tanto di uniforme nazista, baffetti e mitra papale. Allora poi si sedette sul divano del soggiorno, in attesa del momento inevitabile in cui la signora Simpson sarebbe stata risvegliata da pacco squallore per prendersi cura del signor computer e così riportare il mondo alla sanità mentale. Subito. Si attivarono i medici del servizio di sicurezza. Il dottor Dumbledome disse sicuro. È psicotico. Gli ho chiesto se sappia dove si trova. Mi ha detto che sta galleggiando su una zattera sul Mississippi. Per favore, dottor Pacemaker, dammi una conferma. Chiedigli chi è. Il dottor Pacemaker toccò i pulsanti di ordini e richieste sulla console del grande computer. Lì domandò. Chi sei? Chi sei? Rispondi. La risposta apparve immediatamente sullo schermo. Tom Sawyer. Per chi non se lo ricordasse, è il protagonista di un romanzo di letteratura per ragazzi, di Mark Twain. Visto, disse Dumbledome, ha completamente perso ogni contatto con la realtà. È cominciata la riattivazione della signora Simpson? Affermativo, Dumbledome, rispose Pacemaker. E come per dargli ragione, si spalancò una doppia porta e apparve il contenitore rivestito in piombo nel quale dormiva la signora Simpson. Al momento stava ascoltando la sua soppopera diurna preferita, che si chiamava Ma Perkins. Signora Simpson, signora Simpson, abbiamo di nuovo un problema col signor computer. È completamente partito di testa. Un'ora fa ha dirottato sullo stesso incrocio tutti i mezzi pubblici di New York. Le perdite umane sono pesantissime e anziché reagire al disastro inviando squadre di pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia, ha mandato un plotone di clown. Vedo. Vedo, ma prima devo finire la puntata. Devo occuparmi di un incendio nel deposito di legname di Ma. Conosce Ma, Ma, la protagonista della mia soppopera preferita. Vedi, in questo momento Ma è col suo amico Shuffle. Signora Simpson, la situazione è grave. Abbiamo bisogno di lei. Esca dalla sua solita foschia. Si metta al lavoro per riportare il signor computer alla sanità mentale. Poi potrà tornare ai suoi serial radiofonici. e scrutando la signora Simpson, pacemaker come sempre rimase stupefatto dalla sua bellezza, praticamente innaturale. Grandi occhi neri, lunghe ciglia, voce roca sensuale, capelli di un nero intenso, tagliati a caschetto, così deliziosi in un mondo di spazzatura. E poi il corpo, snello, sodo, labbra calde che danno un'idea di amore e consolazione. E' sorprendente. L'unico essere umano realmente sano di mente rimasto sul pianeta, l'unico capace di recuperare un po' di quella sanità, è così incredibilmente attraente. Al diavolo, non è il momento per idee simili. Il notiziario televisivo della NBC aveva già segnalato che il signor computer aveva chiuso tutti gli aeroporti della Terra e li aveva trasformati in stadi da baseball. Poco dopo, la signora Simpson studiava un complesso sommario dei valori di ordine emanati dal signor computer. E' chiaramente regressivo, informò i due sorseggiando distrattamente una tazza di caffè. Signora Simpson, temo che lei stia bevendo acqua saponata. Ha ragione. Vedo qui che il signor computer sta giocando brurle infantili alla massa della specie umana, il che collima con la mia ipotesi di lavoro. Ma come riporterà alla normalità questa grande macchina? E' evidente! E' evidente che si è imbattuto in una situazione traumatica che lo ha fatto regredire. Individuerò il trauma. Quindi procederò a desensibilizzare il signor computer nei confronti del trauma. ma la mia procedura consisterà nel sottoporre al signor computer tutte le lettere dell'alfabeto. Una alla volta, eh? Soppesando le sue reazioni. Finché non percepirò quella che noi specialisti di sanità mentale chiamiamo una reazione di... Sobbalzo! Lo fece. Alla lettera J il signor computer emise un pigolio anche del fumo. Poi la signora Simpson ripetè la sequenza di lettere. Questa volta il gemito pigolante e l'emissione di fumo si verificarono con la lettera C. J C J C Jesus Christ forse Gesù Cristo forse si è verificato il secondo avvento forse il signor computer teme di essere esautorato partirò da queste ipotesi fate mettere il signor computer in uno stato semi comatoso in modo che possa procedere a una libera associazione di idee i tecnici eseguirono. I borbotti virtualmente incosci del grande computer uscirono da canali audio disseminati nella sala di controllo il computer allora farfugliava cose senza senso disconnesse tra loro si è programmato per morire una brava persona come quella analisi degli ordini del DNA non vuole chiedere un rallentamento ma un'accelerazione del processo di morte i salmoni che nuotano controcorrente per andare a morire lo affascinano dopo tutto quello che ho fatto per lui rifiuta la vita ne è cosciente vuole morire non posso sopportare la morte volontaria la riprogrammazione virata di 180 gradi rispetto alla matrice basilare di programmazione del DNA insomma andavo avanti ancora un po' a blaterare delle cose senza senso la signora Simpson disse secco che nome che nome ti viene in mente signor computer dimmi un nome impiegato di negozio di dischi un'autorità sui leader tedeschi e rock melenzo degli anni 60 che peccato l'acqua è calda mi sa che mi metto a pescare butto l'amo prendo un grosso pesce gatto come ci resteranno di sasso anche Jim Jim sì è un uomo anche se no mi deve dire un nome ripeteva la signora Simpson un borbottio indistinto proseguì la signora Simpson si affrettò a dire a double da me a pacemaker che se ne stavano rigidi tesi trovate l'impiegato di un negozio di dischi con le iniziali J.C deve essere un'autorità sui leader tedeschi e sul rock melenzo degli anni 60 sbrigatevi non abbiamo molto tempo J.C Joe criticabile Joe criticabile che nel far tempo aveva lasciato l'appartamento passando per una finestra si fece strada tra i mezzi pubblici fracassati circondato dalle urla rabbiose dei conducenti procedette in direzione dell'artistic music center il negozio di dischi dove aveva lavorato per quasi tutta la vita quando all'improvviso due poliziotti in uniforme grigia si materializzarono davanti a lui i loro volti erano truci puntavano le vibropistole dirette sul petto lei viene con noi lo dissero praticamente all'unisono Joe si lasciò sopraffare dall'istinto di scappare girò sui tacchi corse via ma subito lo invase un dolore atroce gli agenti li avevano sparato e mentre cadeva si rendeva conto che era troppo tardi per fuggire Joe era prigioniero delle autorità ma perché? si trattava solo di una retata casuale? o era forse in corso un tentativo di colpo di stato destinato a fallire? oppure gli comunicarono gli ultimi brandelli di pensiero? oppure intelligenze extraterrestri erano finalmente giunte ad aiutare l'uomo nella sua lotta per la libertà? poi le tenebre misericordiose gli si chiusero attorno quando riprese coscienza due membri della classe tecnocratica gli porgevano una tazza di acqua saponata un poliziotto armato incombeva sul fondo del locale pronto a sparare se la situazione lo avesse richiesto in un angolo della stanza sedeva una ragazza dai capelli neri straordinariamente bella indossava minigonna e stivali roba fuori moda ma terribilmente attraente già scoprì che possedeva gli occhi più enormi e calorosi che avesse visto in casa sua ma chi era? cosa voleva da lui? ma perché lo avevano portato proprio da lei il suo nome criticabile il suo nome criticabile è il mio nome mi chiamo Joe criticabile riuscì a rispondere lui senza riuscire a staccare gli occhi dalla ragazza straordinariamente bella lei ha un appuntamento con il reparto ristrutturazione dna a che scopo? quale UK semanato dal suo patrimonio genetico intende o per meglio dire intendeva modificare Joe rispose debolmente io volevo volevo essere riprogrammato per a presente una vita più lunga il codice della morte stava per entrare in azione per me e così sappiamo che non è vero lei voleva tentare il suicidio non è così signor criticabile non voleva farsi modificare il codice del dna per rimandare la morte ma per accelerarla giusto? eh signor criticabile lui non aprì bocca era ovvio che sapevano perché? sono Joe esitò poi si arrese alla sconfitta e riuscì a dire non sono sposato non ho una moglie niente solo il mio maledetto lavoro al negozio di dischi tutte quelle maledette cantate tedesche le parole di quel rock melenso mi passano avanti e indietro nella testa notte e giorno sempre un misto di Goethe Aine Neil Diamond ma 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 quindi perché dovrei continuare a vivere? e voi la chiamate vita questa? è esistere non vivere ci fu silenzio tre rospi saltarono sul pavimento il signor computer stava facendo piovere rospi da tutti gli impianti di aereazione del pianeta mezz'ora prima c'erano state docce di gatti morti ma lei ha idea lei ha idea di cosa significhi sentirsi sempre nella testa versi del tipo la canzone che canto per te l'amore che porto per te la bellissima ragazza dai capelli neri rispose bruscamente credo di saperlo criticabile vede io sono Joan Simpson allora lei lei quella che se ne sta al centro della terra a guardare una successione infinita di soppopera tutti i santi giorni ripetuta all'infinito no no non a guardare ad ascoltare sono radiofoniche non televisive Joe non disse niente non c'era niente da dire uno dei tecnocrati in camice bianco disse signora Simpson bisogna cominciare il lavoro per riportare il signor computer alla sanità mentale al momento sta producendo centinaia di migliaia di copie di polli polli il signor computer è uscito di testa per colpa della sua mancanza di amore per la vita per riportare alla sanità mentale il signor computer dobbiamo prima riportarci lei è esatto signora Simpson lei a noi accese una sigaretta si appoggiò pensosa allo schienale allora Joe cosa occorre cosa occorre per riprogrammarti dai per farti desiderare di vivere invece di morire dai dai dimmi Joe la sindrome abreattiva del signor computer è collegata alla tua il signor computer ritiene di avere fallito nei confronti del mondo perché esaminando un elenco di esseri umani che gli stanno a cuore ha scoperto che tu come scusi esseri che gli stanno a cuore cioè il signor computer mi vuole bene si prende cura di lei un attimo disse la Simpson hai reagito all'espressione stare a cuore secondo te cosa significa e Joe con una certa difficoltà rispose significa che mi vuole bene no che è l'interesso in quel senso permettimi di farti una domanda ciò tu hai l'impressione che nessuno ti voglia bene vero è quello che mi diceva mia madre e tu le hai creduto sì John Simpson spense di colpo la sigaretta molto bene Dumbledore non ci saranno più soppopera radiofoniche a torturarmi le orecchie non tornerò al centro della terra è finita signori mi dispiace ma le cose stanno così ma tutti preoccupati dicevano ma lascerà il signor computer matto come no 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 guarirò il signor computer guarendo Joe e guarendo Joe guarirò me stessa signori ci fu silenzio va bene disse uno dei tecnici vestiti di bianco e allora faremo così vi spediremo tutti e due al centro della terra e così potrete parlare chiacchierare tra voi per l'eternità tranne quando sarà necessario tirarvi fuori da pacco squallore per guarire il signor computer vi sembra un accordo equo un minuto disse Joe criticabile ma la signora Simpson stava già annuendo è equo disse scusate ma è il mio appartamento è il mio lavoro è la mia piccola inutile schifosa vita che sono abituato a vivere la tua vita sta già cambiando hai incontrato me ma io credevo che tu fossi vecchia e brutta non avevo idea l'universo è pieno di sorprese disse joan simpson e lì tese le braccia ho letto millanta storie di cavaliere erranti imprese imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza come un vigliacco azioso sordo ad ogni sofferenza nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia proprio per questo sancio c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso fosse anche un sogno matto vami a prendere la sella che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia delta dulcinea del proboso e a te sancio io prometto che guadagnerai un castello ma un rifiuto non l'accetto forza assellami il cavallo tu sarai il mio scudiero la mia ombra confortante e con questo cuore puro col mio scudo erontinante colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte come vero nella mancia che mi chiamo Don Quixote Don Quixote prossimo racconto probabilmente tutti lo conoscete certo però non conoscete Don Quixote è il mulino a vento di Paul Anderson che è un altro ed è diverso il primo robot del mondo giunse dalle colline verdeggianti con la sua corazza di metallo fulgente che rifletteva la luce del sole camminava con grazia ondeggiando quasi come un felino con il passo silenzioso sebbene si potesse sentire la terra vibrare debolmente sotto il peso di quella massa tremenda e poi anche l'aria trattenere inconsapevolmente un sospiro per l'enorme motore che batteva dentro di lui lui eh già lui perché non si può pensare a un robot come a qualcosa di neutro lui aveva la rozza mascolinità di un cannone navale o di un alto forno aveva tutta l'eleganza silenziosa e vellutata di un progetto di una costruzione perfetta ecco non poteva non nascondere il peso e la forza di una mole alta a due metri e mezzo li brillavano gli occhi quasi come di fuochi interiori di atomi repressi perché grazie ad essi era in grado di vedere qualsiasi spettro di frequenza volesse poteva rivolgerti uno sguardo a raggi X e guardandoti penetrarti completamente con quegli occhi spaventosi costruendolo gli avevano dato un aspetto umano ma avevano avuto almeno il buon gusto di non fargli anche il viso c'erano gli occhi con le loro orbite per superlenti per quando aveva bisogno di una vista microscopica o telescopica e vi erano anche altri piccoli orifizi sensori e vocali ma quanto al resto la testa era solo una maschera di metallo scintillante lui era umanoide ma non umano era una creazione dell'uomo ma era più dell'uomo era lui la prima macchina indipendente fornita di volontà non specializzata gli uomini l'avevano sognato per molto tempo di volta in volta era stato il genio della lampada oppure il golem o la testa di bronzo di bacon o il mostro di Frankenstein era la creatura che trascendeva l'uomo e che poteva servire o distruggere con la stessa sprezzante facilità lui camminava sotto un luminoso cielo estivo lungo i campi assolati attraversava piccoli boschi che danzavano mormoravano al vento le abitazioni degli uomini erano sparpagliate qua e là erano case che di fatto si prendevano cura di se stesse all'orizzonte appariva una delle gigantesche fabbriche semi-automatiche di cibo alcuni autoplani a guida autonoma volavano tranquillamente si vedevano degli esseri umani uomini abbronzati con mogli bambini attenti alle rispettive faccende vestiti con abiti dai colori vivaci che fluttuavano nella brezza alcuni sembravano al lavoro c'era anche un colorista che sperimentava una nuova armonia cromatica c'era anche un compositore seduto alla veranda che ricavava dalle note da un ogni suonatore ma c'erano anche un gruppo di ingegneri sì in un laboratorio con muri trasparenti che testavano alcuni meccanismi ma con il periodo laborativo medio di quei tempi la maggior parte di loro era occupata in vari tipi di ricreazioni un picnic una danza sotto gli alberi un concerto una coppia di amanti un gruppo di bambini impegnati in uno di quei giochi antichissimi tipici per la loro età un vecchio felicemente disteso su un'amaca con un libro una bottiglia di birra insomma la specie umana se la stava prendendo comoda finalmente vedevano passare il robot spesso dopo che la sua ombra spaventosa era sparita cadeva il silenzio perché i suoi indicatori elettronici avvertivano immediatamente le pulsazioni vorticose che segnalavano nervosismo leggero disagio certo eh si fidavano degli uomini cibernetici non andavano in cerca di un mostro vorace ma erano sempre curiosi ecco provavano l'antica insicurezza umana per ciò che è estraneo ecco l'insicurezza per ciò che è estraneo per ciò che è sconosciuto e in cuor loro si chiedevano cosa stesse per fare il robot e cosa sarebbe stata la sua nuova e invincibile genia per gli abitanti della terra ma forse forse non appena la sua mole luccicante fosse sparita dietro le colline forse avrebbero ripreso a sorridere e si sarebbero dimenticati di lui e il robot proseguiva il suo cammino nel frattempo a quella stessa ora nella taverna Casanova non c'erano molti clienti dopo il tramonto la taverna sarebbe stata affollatissima i distributori automatici avrebbero avuto un bel da fare poiché si poteva assistere a una buona esibizione dal vivo e poi a quei tempi la televisione stava passando di moda non andava più ma per il momento erano presenti solo quelli che amavano farsi un bicchiere a metà popeniggio e poi c'erano anche i bevitori incalliti nella taverna la costruzione della taverna era isolata sulla cima di una cresta alberata circondata da giardini con un ampio parcheggio la facciata esterna caratterizzata da un colonnato era molto lunga bassa e simpatica a vedersi l'interno era fresco poco illuminato piacevolmente tranquillo quell'aria generale di decoro dovuta solamente al fatto che non c'erano molti avventori sarebbe probabilmente durata fino a sera il gestore era impegnato altrove le cameriere avevano pensato che per il momento non valesse la pena essere presenti così il Casanova era completamente affidato alle macchine due uomini però due uomini stavano dando molto da fare al distributore automatico questo non faceva tempo a emettere una bevanda che già loro avevano inserito un'altra moneta per averne altre l'uomo più piccolo beveva whisky con soda mentre quello più grosso si era dedicato alla birra più forti entrambi erano completamente ubriachi sedevano un tavolo d'angolo dal quale non potevano vedere che altro la porta aperta ma in realtà la loro attenzione era semplicemente concentrata sui loro bicchieri il loro era uno di quegli strani cameratismi da bar che nascono tra personalità assolutamente diverse cioè il giorno dopo probabilmente non si sarebbero nemmeno ricordati l'uno dell'altro ma al momento si stavano raccontando i rispettivi problemi l'uomo di bassa statura dai capelli scuri ce li immaginiamo Roger Brady terminò il suo whisky ne richiese subito un altro ah si ho finito prima io esclamò trionfante oh dai dammi un po' di tempo su questa roba va più giù lentamente allora Brady tirò fuori una sigaretta mentre la portava alla bocca l'accendeva e gli tremavano le dita tanto aveva bevuto ma perché questo whisky tarda tanto mi dà fastidio questo ritardo di dieci secondi dieci eternità all'asciutto esigo la consegna immediata della mia miscela la voglio più velocemente della luce e finalmente arrivò il bicchiere se lo portò alle labbra temo però temo temo di avere una sbornia triste io preferirei una sbronza da rissa ma sfortunatamente non c'è nessuno con cui posso attaccare briga ma ci sono io ripete l'amico Borclin stringendo i pugni enormi no 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 ma perché mai e in ogni caso non sarebbe un combattimento mi stenderesti subito e poi perché dovremmo picchiarci siamo sulla stessa barca eh sì non sarebbe molto utile infatti no 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 si potrebbe fare molto di meglio per uccidere non so con un fucile automatico che con questi pugni no quel che vogliamo è fare la guerra al mondo vogliamo far saltare la terra sparpagliare i pezzi tra qui e Plutone però anche quello non servirebbe a nulla verrebbero subito le macchine a rimettere tutto a posto veramente io volevo solo ubriacarmi mia moglie mi ha lasciato te l'ho detto mia moglie mi ha lasciato sì sì ma l'hai detto ma l'hai detto tantissime volte Borklin scosse la testa confuse diceva che sono un ubriacone ho seguito il suo consiglio sono andato da un medico ma non è servito a niente mi ha detto non mi ricordo cosa mi ha detto ma non ho potuto smettere di bere non c'era nient'altro da fare lo so lo so la psichiatria aiuta la gente a risolvere i problemi ma non è capace di risolvere i problemi che portano un uomo alla follia e quando un problema non può essere risolto cosa puoi fare l'unica alternativa è vera cercare di dimenticare ma è che mia moglie voleva voleva che diventassi qualcuno voleva che mi trovassi un lavoro ma cosa potevo fare io io ho tentato onestamente ho tentato per tutta la vita non c'era nessun impiego disponibile almeno di quelli che potevo svolgere io oh guarda lascia stare per fortuna il contributo statale per ogni cittadino è sufficiente per ubriacarsi però l'unica cosa di cui mi posso lamentare è che i drink vengono serviti troppo lentamente voglio un distributore automatico istantaneo Borklin inserì una moneta per avere un'altra birra si guardò le mani perplesso che io io sono stato sempre un uomo forte so di non essere molto intelligente ma sono forte sono capace di lavorare con le macchine e tutto il resto ma nessuno mi ha voluto dare un lavoro a casa sapevo fare di tutto in Alaska avevamo una piccola casa in campagna mio padre non possedeva molti attrezzi e così dovevo rendermi utile ma ora lui è morto abbiamo venduto la terra e le mani non mi servono più a niente lascia stare rispondeva Bredi lascia stare il paradiso del lavoratore dalla fine della transizione la terra è diventata utopia le macchine eseguono tutto il lavoro ordinario dico tutto producono così tanto che tutti i beni di prima necessità sono gratuito un cavolo veramente vogliono denaro per ogni cosa beh beh ma non tanto dai e poi si ricevono i contributi statali per il cittadino il che è un modo intelligente per rendere gratuiti i beni di prima necessità se vuoi più soldi ma per gli oggetti di lusso allora sai puoi fare sempre l'ingegnere puoi fare lo scienziato il pittore il gestore di una taverna il pilota spaziale insomma qualsiasi cosa di cui ci sia richiesta non devi lavorare troppo però non lavorate troppo è un paradiso così le mani tremanti di Bredi lasciarono cadere la cenere della sigaretta sul tavolo un piccolo tubo sbucò dalla parete e lo aspirò velocemente eh sì ma io non riesco a trovare lavoro non mi vuole nessuno da nessuna parte ma è ovvio a cosa può servire oggi un lavoratore manuale ma fanno tutte le macchine ma sì sì certo ci sono i tecnici che controllano ce ne sono tanti ma sono tutti uomini altamente specializzati con anni di esperienza chi non ha da offrire che la propria forza un pochino di abilità praticona è ovvio non può trovare lavoro no per lui non c'è posto il genio degli uomini ha eliminato la necessità del lavoro umano ora non resta che eliminare il lavoratore stesso no Borklin strinse ancora i pugni minacciosamente ma che cavolo dici ma insomma che cosa vuoi dire oh guarda no no non voglio dire niente di personale in fondo lo sai anche tu come stanno le cose un tipo come te non è più adatto a questa società umana e così i genetisti si stanno adoperando per una sua graduale sparizione ecco cioè il livello demografico viene mantenuto fisso relativamente basso e la popolazione si sta lentamente volvendo verso un modello che possa adattarsi all'attuale ambiente e tu non sei un modello giusto Pete la rabbia dell'omaccione si sgonfiò trasformandosi in stupidità con lo sguardo vuoto osservava il bicchiere e che fare ma cosa posso fare assolutamente niente Pete bevi cerca di dimenticare tua moglie puoi solo bere forse potrei andare sulle stelle non in questa vita e anche sulle stelle ci saranno sempre le macchine e noi uomini non saremo di alcuna utilità bevi vecchio mio e sii felice stai vivendo nell'utopia per un attimo vi fu silenzio fuori la giornata era luminosa Brady era grato dell'oscurità della taverna finalmente Borklin disse ma non mi riesco a immaginare come tu che sembri così intelligente cioè tu potresti andare bene no 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 avevo un lavoro sai ero un mediocre tecnico di impianti di sicurezza ma l'altro giorno non ce l'ho fatta più ho detto al capo cosa poteva farsene dei suoi impianti di sicurezza e da allora non ho più smesso di bere e non credo che smetterò più ma come è successo ah guarda era la tetra routine la odiavo guarda io preferisco sbronzarmi mi sono sottoposto anche a una terapia psichiatrica ovviamente ma non è servita a niente perché senti in verità io ho i tuoi stessi problemi non capisco sono intelligente Pete perché nasconderlo dai sono intelligente il mio quotiente intellettivo mi colloca nella classe dei geni ma non sono abbastanza intelligente Brady si frugava nelle tasche cercando un'altra moneta trovò solo una banconota ma la macchina distributrice gli diede il resto eh cico degli autodistributori istantanei l'ho già detto prima l'ho già detto prima questo non importa va bene andiamo avanti ma cosa intendi cosa intendi per non sufficientemente intelligente Borklin aveva la vaga sensazione che un nuovo punto di vista del suo problema avrebbe potuto aiutarlo a trovare una soluzione perché questo è proprio quello che hanno detto a me solo che me l'hanno detto in termini più gentili ma tu io 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 sono troppo intelligente per essere un comune tecnico almeno per un lungo periodo però non possiedo nessun talento artistico letterario che ogni giorno è tanto importante io volevo essere un matematico l'ho voluto per tutta la vita mi sono anche messo di impegno ho studiato ho appreso tutto tutto ciò che poteva contenere la mia mente da uomo e so che cosa consultare per trovare quello che non posso tenere a mente qual è il risultato il risultato è che le macchine hanno preso il sopravvento non solo nel campo dei calcoli ordinari che ormai è cosa vecchia ma anche in quello della ricerca indipendente e a un livello più alto di quello che può raggiungere il cervello umano evidentemente ci sono ancora degli uomini che lavorano in questo campo tracciano a grandi linee i problemi controllano le macchine le seguono in tutti i passaggi uomini che anche oggi sono l'anima della scienza ma sono solo i più grandi geni sono solo elementi veramente brillanti quelle originali quelle che hanno i lampi di ispirazione loro sì loro sono necessari no? il resto il resto lo fanno le macchine e io non sono un genio di prima grandezza Pitt non sono capace di fare niente non sono capace di fare niente che un cervello elettronico non sia in grado di fare meglio e più velocemente di me e così neppure io ho trovato un lavoro restarono di nuovo in silenzio poi Borklin disse piano almeno tu ti puoi divertire a me non piacciono tutti questi concerti questi quadri questa roba di fantasia io non ho nient'altro che le donne l'alcol e a volte qualche stereo film credo che tu abbia ragione disse Bredi con indifferenza ma io io non sono portato all'edonismo è la verità che neanche tu lo sei noi due vogliamo lavorare vogliamo sentirci importanti vogliamo avere un valore qualche valore vogliamo essere qualcuno i nostri amici nostra moglie sai che una volta aveva una ragazza sai cosa si aspettava che diventassi qualcuno tutti vogliono che diventiamo qualcuno però non c'è niente che possiamo fare un raggio abbacinante fortissimo gli colpì gli occhi a quel punto guardò fuori dalla porta e gridò con tale violenza che rovesciò il drink ah santo cielo Pete Pete guarda guarda è il robot è il robot che? Borklin si voltò cercando di mettere a fuoco l'esterno del locale ma 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 quello che cos'è come che cos'è amico mio il robot devi averne sentito parlare no l'effetto della sbornia era sparito Brady fu preso da un improvviso e tremante fervore la sua voce suonava quasi metallica l'hanno costruito tre anni fa al laboratorio di cibernetica l'hanno costruito a somiglianza dell'uomo con una volontà propria e anche un cervello non specializzato praticamente come un uomo ma è molto più di un uomo ah sì sì ne ho sentito parlare ricordo sì li stavano facendo gli ultimi test di verifica ma da un anno o più se ne va in giro senza alcun controllo ma chissà dove va ah boh non ne ho idea e non lo so neanche io non lo so no 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 noi lo scopriremo oggi eh sì sì vieni con me vieni con me dove dove perché aspetta cosa vuoi fare no 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 non vedi non capisci è il robot l'uomo dopo l'uomo tutto quello che è l'uomo e tante altre cose che non possiamo nemmeno immaginare pit le macchine hanno preso il posto degli uomini qui lì ovunque questa è la macchina che rimpiazzerà all'uomo Borklin non disse nulla si trascinò fuori dietro Brady il più piccolo dei due continuava a parlare velocemente con tono amaro certo certo perché no perché no ascoltami un uomo è solo carne e sangue gli esseri umani sono solo esseri umani non sono abbastanza efficienti per il nostro nuovo mondo luccicante perché non estirpare l'intera razza umana quanto manca perché comincia ad esserci solo uomini di metallo in metallico formicaio un metallico formicaio senza senso andiamo Pete l'uomo l'uomo sta sprofondando nel buio noi possiamo sprofondare pure noi però combattendo questa volta qualcosa nelle sue parole penetrò nella mente di Borklin vide davanti a sé la macchina torreggiante improvvisamente fu come se in essa fosse presente tutto ciò che lo aveva distrutto quella la macchina perfetta l'arroganza finale dell'efficienza lontana indifferente era simile a un dio mentre lo faceva a pezzi improvvisamente lo odiò ma con una violenza che sembrava rompergli il cervello si mosse rumorosamente goffamente verso Brady insieme si misero a rincorrere il robot voltati voltati e combatti dai il robot si fermò Brady raccolse un sasso glielo tirò ma la pietra rimbalzò sulla corazza con un rumore sordo il robot si girò verso di loro e allora Borklin corse verso di lui imprecando con le scarpe pesanti diede un calcio alle giunture delle caviglie del robot con i pugni lo picchiò sul petto senza lasciare segni però e basta basta disse il robot basta finirai col ferirti Borklin fece un passo indietro boccheggiando di dolore per la carne ferita e la soffocante impotenza Brady fece alcuni passi barcollanti per mettersi di fronte al robot l'alcol gli cantava gli ronzava ancora in testa ma riuscì a parlare con voce stranamente chiara ho capito non possiamo farti del male perché noi siamo dei Don Quixote che prendono d'assalto i mulini a vento ma tu non puoi saperlo tu non puoi saperlo robot tu non puoi conoscere nessuno degli antichi sogni degli uomini non sono in grado di comprendere il vostro comportamento rispose il robot gli occhi li splendevano con i loro fuochi profondi cercando quelli degli uomini inconsapevolmente i due si tirarono un po' indietro voi siete infelici vi siete messi a bere per sfuggire alla vostra infelicità e nel vostro attuale stato di intossicazione mi identificate con la causa della vostra miseria e perché non dovremmo farlo? perché non lo sei forse? le macchine stanno conquistando la terra tutta con la loro magnifica efficienza e stanno trasformando l'uomo in parassita e adesso arrivi tu la macchina perfetta quella che rimpiazzerà una volta per tutto l'uomo stesso non ho intenzioni bellicose dovreste sapere che sono stato condizionato contro tutte le tendenze di questo tipo sin da quando il mio cervello era in costruzione che motivi potrei avere per battermi con qualcuno nessuno assolutamente nessuno e che semplicemente voi conquisterete tutto quando quando sarete costruiti in numero sempre maggiore e il vostro potere privo di emozioni comincerà a comincerà a fare cosa? come fai a sapere che sono privo di emozioni? ogni psicologo potrebbe dirti che le emozioni sebbene non necessariamente del tipo umano sono il fondamento del pensiero quali motivi logici ha un essere per pensare lavorare perfino per esistere non può razionalizzare le cose che fa le fa semplicemente a causa del suo sistema endocrino del suo motore o di qualunque cosa lo faccia muovere le sue emozioni e ogni mentalità capace di autocoscienza proverà una gamma di emozioni grande come la vostra e sarà felice o interessato o infelice come lo siete voi anche in un mondo abituato a macchine che sono tutto fuorché viventi era strano parlare e discutere con una massa vivente di metallo e plastica vuoto ed energia Brady fu colpito dalla stranezza della cosa e capì che dove doveva essere davvero ubriaco però doveva gridare il proprio odio la propria disperazione dire tutto per liberarsi almeno in parte della tensione che lo bruciava dentro e allora continuò non importa di come ti senti o di come non ti senti il fatto è che tu sei il futuro il futuro senza senso in cui tutti gli uomini saranno inutili come lo sono io adesso e io per questo ti odio è la cosa peggiore è che non posso ucciderti il robot era lì di fronte a loro con la statua brunita di un qualche antico dio non antropomorfico insensibile sì ma la sua voce fece vibrare l'aria l'aria tranquilla il vostro è un caso piuttosto comune siete stati relegati in un angolo del progresso tecnologico ma non dovete identificarvi con l'intero genere umano ci saranno sempre degli uomini che penseranno sogneranno canteranno e tramanderanno tutto che la specie umana ha sempre amato il futuro appartiene a loro non a voi non a me sono sorpreso che un uomo apparentemente intelligente come te non riesca a capire la mia posizione ma quale bene terreno è un robot nel momento in cui la scienza era ormai in grado di costruirmi già non c'era più bisogno di farlo pensate ormai esistono macchine specializzate in grado di svolgere o aiutare l'uomo a svolgere ogni singolo compito possibile immaginabile quale utilità può dunque avere una macchina non specializzata in grado di svolgerli tutti è proprio l'uomo a svolgere questa funzione le macchine non sono altro che i suoi strumenti per caso una casalinga ha bisogno di un robot cameriere quando tutto ciò che deve fare è controllare le dozzine di macchine che già svolgono ogni lavoro oppure perché uno scienziato dovrebbe volere un robot in grado ad esempio di entrare in stanze pericolosamente radioattive quando ha già installato un apparecchio automatico e controllabile a distanza che sta già facendo tutto da solo e certamente artisti filosofi politici non hanno bisogno di robot perché svolgono compiti specificatamente umani ci sarà sempre l'uomo a porre gli obiettivi e a sognare la macchina per tutti gli usi è e sarà sempre l'uomo stesso uomo io sono stato costruito per uno studio puramente scientifico dopo un paio di anni hanno appreso tutto ciò che potevano imparare da me e non potevo servire più a niente allora mi hanno lasciato diventare un vagabondo inerme senza scopo senza senso solo per farmi fare qualcosa e pare che debba vivere ancora 500 anni non ho alcuna meta non ho nessun vero motivo per esistere non ho amici non c'è posto per me nel consorzio umano né modo per utilizzare la mia forza il mio cervello uomo uomo pensi forse che io sia felice il robot si volse e se ne andò Brady sedeva sull'erba tenendosi il capo con le mani per non lasciarlo volare nello spazio e così non vide il gigantesco dio di metallo andarsene però udì udì risuonare le sue ultime parole e all'improvviso in quella voce atona di ottone sentì una tale amarezza che non l'avrebbe mai più dimenticata uomo tu sei il fortunato perché tu puoi ubriacarti e all'improvviso